Viva il suo gioco, viva il suo gioco, viva il suo gioco, viva il suo gioco! Si presenta la nata popere numero 2, il coravano Lorenzo, i tre meglianna via. E si preparano, generati e morti. Vice-Pipoli, si presentino Tottini di Marco Castiglione e Alessandro, e si preparano per i ripeteggi del suo posto, il caderno di Sereano e San Patrini di Borami, Fodigliano e Domiano di Garelli Giulio. Si preparano, Fodigliano e Domiano di Garelli Giulio, capito numero 5. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.